Ebbene sono venuto qui in questo momento per avvisarvi che sarà questo qui sarà un video corto perché vi voglio solo indicare che è nato il mio podcast si chiama il podcast attuale mi raccomando raggiungitelo facilmente raggiungibile sia sui siti seguenti che è anchor.fm e spotify mi raccomando per chi mi cerca su spotify basta che scrive il nome vecchio del canale ovvero sdvlog e potrebbe riuscirebbe non potrebbe nemmeno riuscirebbe Aspè rifacciamola E vai è uscito il mio podcast si chiama il podcast attuale è disponibile su spotify e su anchor cercatevi come sdvlog e troverete il podcast subito mi raccomando ogni domenica esce un video sul canale youtube epitang108 e in più uscirà ogni sabato l'episodio successivo sul podcast dove parleremo di tante cose ad esempio di ricette come si parlerà anche nell'attualità in generale rifacciamo Si parla nel podcast parleremo tanto di attualità parleremo delle ricette di cucina che ho imparato io stesso da mia nonna mi raccomando sarà un podcast spaziale questa che sentirete la prima stagione non ve lo faccio sentire però vi metterò un po di curiosità vi farò sentire un trailer nel podcast quindi iscrivetevi subito al canale per saperne di più del podcast e il link sarà nella descrizione di questo video e nella bio del canale Mi raccomando iscrivetevi subito e iniziatevi a seguire anche su spotify ciao Eccoci qui con il primo episodio di questo podcast tutto innovativo anche perché si parlano di ricette che si vengono tramandate anche dai propri nonni se sapete Oggi andiamo a vedere il cotechino la ricetta Oggi andiamo a vedere il cotechino la ricette